bene allora salve a tutti oggi puntata speciale perché il complanno del salotto quindi insomma siamo in live saremo in live stasera per i soliti festeggiamenti e chiacchiere varie però per ora abbiamo degli ospiti speciali abbiamo con noi luca ferri eccolo lì regista di bergamo attivo da una decina d'anni contando i film che ha riconosciuto poi ne parliamo di questa cosa e quest'anno ha presentato al perino film festival vita terrena di amleto marco belelli che sulla figura del divino telma e il montatore di questo film è andrea miele che l'altro nostro ospite che ha montato anche se sbaglio altre due film di luca e cioè si e mille cipressi quindi per prima cosa per iniziare dato che vita terrena di amleto marco belelli è stato presentato a torino nella sezione documentari italiani io tenderei a chiamarlo documentario però so che è un po difficile classificare il tuo cinema per cui ti chiederai subito siamo un po ossessionati delle definizioni come definiresti il tuo cinema e che 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 spazio ha a livello sia estetico sia anche a livello di mercato nel panorama italiano ma ti direi che è un film semplicemente non non ha caratteristiche del documentario quindi direi che considero proprio lungometraggi dove si colloca nel panorama del cinema italiano ti direi al campo santo nel senso che onestamente un tipo di cinema che insomma non ha non ha collocazione quindi diciamo di non saprei non saprei dove dove poterlo posizionare quindi circuito prevalentemente nei festival però ecco non in qualche rassegna qualche retrospettiva può finire su qualche piattaforma online ma sicuramente oggi la sala non è almeno per i film che ho fatto fino ad oggi è una cosa molto 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 problematica per questo tipo di cinema che insomma lavora molto sul linguaggio e poco sulla storia quindi diciamo questo si porta dietro tutta una serie di problematiche di lettura di fruibilità e insomma non siamo più negli anni 70 quindi questo un po un po la situazione e ti chiederei anche prima che torniamo su amleto e sugli altri tuoi film perché questa cosa che a me incuriosisce il rapporto con i film non riconosciuti cioè perché sono tali quali sono i motivi se si possono dire insomma che rapporto hai con quella parte della tua filmografia allora sono tutta una serie di film fatti in epoca diciamo giovanile che in realtà hanno in luce hanno qualcosa di buono di funzionale però diciamo che io sono arrivato al cinema anche in tardi età e quindi diciamo ho maturato anche un po la consapevolezza del mezzo magari ci ha voluto più tempo mettiamola così quindi sono lavori che ritengo ancora in alcuni casi acerbi e quindi è dal 2011 che possiamo considerarci infatti coerentemente con una filmografia diciamo compatta e coesa ecco io dire da magoghi in poi riparte un po la filmografia anche perché io poi mi ero staccato dal cinema per diverso tempo quindi sono stati quattro cinque anni dove non ho più fatto nulla mi sono dedicato soprattutto alla scrittura e poi sono tornato al cinema nel 2009 nel 2008 quando ho iniziato a lavorare su magoghi e poi è uscito fondamentalmente nel 2011 a pesaro ecco quindi però sia una questione di maturità è una questione di avere dei lavori che siano granitici che che siano compatti che se ti guardi indietro li percepisci ancora come qualcosa che sopravvive al tempo ecco questo è il tema è il tema fondamentale quello che mi interessa fare un cinema che potenzialmente possa sopravvivere infatti proprio al riguardo al riguardo di questo sopravvivere al tempo è la natura granitica dei tuoi film volevo cominciare a entrare un pochino nel nel merito stilistico perché certamente una cosa che si può dire tra quella che viene riconosciuta come la tua prima fase e quella della seconda è che in comune hanno l'idea della ripetizione della struttura molto fissa e nonostante ciò diciamo la ripetizione in sé può assumere una valenza molto diversa io direi in linea di massima che i primi film mi danno un'idea più funerea più anche inquietante nella seconda fase l'inquietudine potrebbe ancora esserci però effettivamente la valenza cambia quindi volevo chiederti innanzitutto se questa idea della a livello molto pratico se questa idea delle ripetizioni l'idea della struttura del film un'idea che tu hai bene in testa già prima di realizzare il film o se effettivamente evolve un'idea dinamica e anche rispetto al montaggio voglio chiedere questa cosa con conseguenze poveri guarda ti direi i film nascono con un'idea molto precisa generalmente quindi diciamo c'è una struttura c'è un ragionamento su quale il supporto giusto da utilizzare anche questo è un aspetto secondo me molto fondamentale perché è il primo passaggio che devo fare quello e poi chiaramente quando ti trovi con una materia che stai trattando devi avere anche un po' di flessibilità e maleabilità a fare dei ragionamenti anche sulla stessa struttura però è chiaro che non è un cinema libero il mio non ci buttiamo dicendo andiamo e poi vediamo che cosa succede riprendiamo e poi capiamo ecco non c'è questo tipo di approccio sicuramente un cinema più programmatico almeno fino ad oggi non è stato un cinema di incasellamento di struttura appunto però ecco probabilmente anche con l'andare dell'età diciamo che gli ultimi lavori sono hanno sempre questa situazione questa rigidità però sono malleabili dall'interno diciamo quindi sono più permeabili ad alcune riflessioni sicuramente un aspetto importante per me è anche la scelta dei collaboratori perché se io mi trovo come un collaboratore di fiducia mi sento in dovere di doverlo ascoltare mi sento in dovere di sentire il suo punto di vista di portarlo a bordo e di confrontarmi con lui quindi diciamo questo per me è un aspetto importante vedo comunque il cinema anche come un'attività anche collettiva quindi diciamo chi non va a snaturare il tuo punto di vista non lo impoverisce ma secondo me lo rende ancora più forte la questione fondamentale però è la fiducia cioè fidarsi dei collaboratori quindi diciamo ci vuole tempo ci vuole conoscenza e questo fa sì che molte situazioni siano siano già sdoganate siano già chiare dall'inizio quindi quando tu ti fidi di qualcuno poi le cose vanno vanno naturalmente diciamo ecco però una caratteristica che devono avere i miei collaboratori devono essere delle persone che abbiano una visione ampia e non estremamente settoriale quindi visto che c'è qui Andrea parlo anche di lui nel senso ci sono persone che hanno magari una visione esclusivamente cinematografica esclusivamente legata al montaggio secondo me è sempre povero un cinema quando hai a che fare con persone appassionate di cinema ma non hai a che fare con persone che restano all'interno del linguaggio io trovo molto interessante approcciarmi al linguaggio cinematografico come persone che hanno una visione aperta sulla storia della pittura sulla storia del teatro della letteratura del design dell'architettura e per la derivazione si arriva al cinema ecco ad esempio con Andrea c'è tutta una serie di situazioni di sintonie di sintonizzazioni che sono sintonizzazioni linguistiche a prioristiche rispetto al cinema questo è sicuramente importante e invece per risponderti alla prima parte della domanda ti direi che sì i primi lavori erano molto molto più funere molto più più glaciali molto più più granitici molto più compatte e chiusi anche autistici nel loro interno dal 2011 in poi ma anche lì dal 2011 a oggi ci sono state diverse gradazioni diverse variazioni diversi passaggi a essere ben precisi diciamo che fosse il primo il primo punto di snodo lo snodo principale è stato con Cane Caro e poi da lì sono arrivate tutta una serie di 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 piccole fessure in cui ci si apre un pochettino di più ehm però ecco l'elemento che non è mai mancato è che sono dei film che hanno a che fare anche con la commedia cioè sono film che hanno a che fare con il comico hanno a che fare con il grottesco hanno a che fare con con l'architettura con la progettazione quindi non c'è solo questo aspetto funereo questo aspetto drammatico no sentivo lì un'intervista di di uco conia che stava rileggendo un po' la 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 sulla filmografia la 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 storia di Thomas Bernard in realtà quando quando si è trovato a dover definire quali come sono i libri di Thomas Bernard ha parlato di grandi commedie cioè eh conia parlava di commedie e di libri ehm anche godibili in questa ritirazione in questa ciclicità ecco io credo che sia sia forse oggi il paragone più vicino al mio cinema è la figura di thomas bernard per quanto riguarda la letteratura per la vetirazione per l'ossessività e se ci deve essere proprio un riferimento cinematografico l'unico riferimento che io oggi vedo è quello di monteiro ecco io credo sia l'unica figura che un po si avvicina a quello che che ho cercato di fare in questi anni in realtà effettivamente quando dici ci sono questi spiragli effettivamente una cosa come vedere come reagisce il divino telma la visione di paragiano vedere cosa dice al riguardo non è una cosa che avresti fatto prima no 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 esatto esatto e allora chiedo ad andrea effettivamente questa natura reiterativa ritmo del cinema di luca se appunto a livello di montaggio quanto collaborate quanta e idea appunto di quanto dell'idea di luca tu traduci a livello di ripetizione il film sul divino telma è basato appunto su questi questi dialoghi che il divino telma con la webcam e sono distribuiti in un arco temporale ben preciso effettivamente sono dei segmenti ben precisi immagino da tantissime ore di materiale quindi volevo sapere un po la scelta è come è stata distribuita come avete lavorato assieme io posso parlare per gli ultimi lavori che ho fatto con luca cioè gli ultimi tre quindi si mi decipressi e il due quel film suo telma ma luca a questo metodo che utilizza praticamente da sempre cioè di iniziare come ha detto prima un film stabilendo una griglia quella che lui chiama griglia excel già stabilisce fin dall'inizio oltre al supporto eccetera anche qual è la struttura in modo da sforzare il materiale e capire fino a che punto quella struttura regge negli ultimi tempi secondo me appunto ha capito che si può trovare anche una via di mezzo tra la rigidità e poi il renderla più malleabile in modo da insomma da trovare una forma compiuta per quanto riguarda il documentario suo tema il film suo tema all'inizio diciamo così che la struttura non era perfettamente ben definita cioè da quello che ricordo io sono stati iniziate questi colloqui skype poi luca mi ha coinvolto dopo circa un mese più o meno più o meno si di circa un mese mi ha chiamato mi ha detto guarda ha iniziato questo lavoro qui vediamo da che parte in che direzione prosegue poi un giorno dopo che erano passati circa due mesi a questo punto qua mi ha detto guarda in mente questa struttura molto rigida in cui stabiliamo un calendario e da questo materiale dobbiamo per forza estrarre massimo un minuto e mezzo due perché appunto la previsione era di avere 52 incontri di un'ora un'ora e mezza l'uno per riuscire a stabilire un c'è per riuscire a creare un film che riuscisse a raccontare quel periodo lì non potevi mettere troppo materiale da una parte e togliere troppo dall'altra e quindi diciamo così la il filo conduttore è stato quello di asciugare il più possibile e di creare questa specie di mini diario poi una volta che abbiamo cominciato a incasellare tutti i vari incontri sono arrivate nuove idee sono arrivati nuovi stimoli quella dei telefoni inviati da hotel ma quindi siamo partiti proprio con una linea molto netta poi rivedendo il film più volte rivedendo i primi blocchi che abbiamo assemblato luca ha detto guarda questa cosa quale possiamo modificare in questo modo possiamo un attimo limare questo questo aspetto e il film funziona meglio faccio un'osservazione prima di andare avanti e questa la questione della 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 ripetizione della del ritmo e chiaramente si percepisce in questi ultimi film in amleto ma anche in pierino anche in in colombi andando un po più indietro e innanzitutto qualcosa di lineare a livello temporale c'è una scansione temporale ben precisa e mi mi dà l'idea appunto uno dei motivi per cui è difficile secondo me definirlo un documentario e che in realtà tenta di incasellare prevedere il reale più che di seguirlo è una cosa che dicevi anche tu prima e la scansione temporale a me dà l'idea di qualcosa di mortifero di funerio come si diceva prima cioè si tenta di catturare il tempo che sta procedendo in maniera inesorabile e di incasellarlo in qualche maniera per dirigerlo e quindi insomma collegavo le varie le varie parti a ripetizione la 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 temporalità e il lato funerio non so se sei d'accordo se l'osservazione giusta si si è corretto ma è anche un po un approccio che permette di di non avere troppa fantasia cioè nel senso io diffido sempre dalle persone fantasiosa delle persone che hanno intuizioni dalle persone che cercano per forza di non di stupire tutti i costi invece proprio questo approccio un approccio secondo me un po più vicino all'artigianato mi viene a dire tutti i giorni io vado in ufficio alza la servanda per mio negozietto è un po così nel senso un approccio diciamo molto molto non so anche per il gamasco no ho avuto la bolla se nel senso noi siamo così quindi molto c'è questo tipo di atteggiamento ecco che non è sicuramente quello di persone aperte agli accadimenti ecco avevo una curiosità riguardo invece a ai personaggi dei dei tuoi film a innanzitutto come li scegli e come li trovi perché se il divino telma è un comunque un personaggio pubblico conosciuto in italia molto conosciuto ad esempio pierino come 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 l'hai trovato e anche la la protagonista della casa dell'amore come come li hai scelti e poi oltre a questo volevo anche chiederti il livello di intimità che raggiungi con con loro sia cioè sia durante il film e sia anche dopo nel senso sì ovviamente se se ne puoi parlare sì sì no è domanda molto importante secondo nel senso che è soprattutto sul dopo nel senso che sono tutti i rapporti che continuano quindi non un po perché nasce comunque insomma sono lavori che richiedono tanto tempo di gestazione di conoscenza non anche pierino comunque sono 52 incontri fisici quindi immaginatevi anche l'impatto che può aver avuto sulla mia vita no tutti i giovedì dalla mia vita andare sempre nel stesso posto cioè quindi sono rapporti che continuano e ben venga nel senso che sennò rischierebbe di essere un po me utilizzo per fini cinematografici invece sono conoscenze che in realtà poi si protagono nel tempo con bianca nonostante oggi sia sia in carcere comunque continuiamo a sentirci ogni settimana via mit mi chiama tutti i giorni c'è un rapporto comunque che continua anche se impossibilitato dalla presenza fisica no quindi questo un po per risponderti e mentre lei come li ho conosciuti ho conosciuti con ma in buona parte sono persone che votavano a bergamo ad esempio pierino piuttosto che dario baci si protagonista di abacuc e a dare un mio ex collega piuttosto che pierino una persona che andava sempre cinema si sedeva sempre nello stesso posto prendere biglietti giorno prima per il giorno dopo quindi la persona fortemente rutinare abitudinaria quindi era impossibile non accorgersene e quindi sono persone che mi ruotavano intorno proprio negli stessi spazi per quanto riguarda invece bianca piuttosto che divino tema di me li sono andati a cercare è stato proprio un discorso completamente diverso bianca in realtà io non avrei mai voluto fare un film su una transessuale ve lo dico proprio francamente nel senso il mio obiettivo era fare un film il film della chiusura della trilogia dell'appartamento della trilogia domestica doveva essere una persona che avesse come nucleo lavorativo la casa quindi poteva essere esponenzialmente non sono persona che cuce piuttosto una persona che attacca i bottoni piuttosto una persona che non lo so un lavoro una persona che avesse la casa come un ruolo fondamentale tra tra questo chiaramente c'era anche chi la prostituzione quindi diciamo con bianca sono arrivato alle tramite un annuncio sessuale proprio da un sito di incontri quindi ci siamo incontrati e quindi c'è stata una conoscenza così voluta cercata alla fine no un po anche come con il divino tema alla fine proprio meramente contattato dal numero dalla mail del sito che lui chiama sacro sito quindi diciamo questo diciamola come come è andato quindi a volte sono situazioni che ha intorno e altre volte sono situazioni che ti vai a cercare insomma volevo volevo collegarmi anch'io su su una questione che riguarda questi ultimi film cioè il tuo ruolo all'interno di film nel senso che lasci molto spazio al soggetto però ci sono questi momenti in cui c'è la tua voce o anche la tua la tua presenza e che però sono i documenti di raccordo quasi che svelano un po il backstage della preparazione certosina di cui si parlava prima ecco volevo chiederti qualcosa su questo esibire il il lato artigianale dietro dietro al film ma sì nel senso che anche qui diciamo la mia intenzione è sempre quella di sparire possibilmente di non esserci quando devo per forza entrare perché a un motivo diciamo propedeutico allo sviluppo di quello che si sta io mi vergogno sempre quando uso questo termine raccontando ecco mi scuso sempre per quando quindi è il problema che a volte è la totale assenza rischierebbe di di creare più problemi al fin che altro quindi mio malgrado a volte devo comunque esserci o con una voce fuori campo generalmente ma in presenza fortunatamente però è così le situazioni a volte determinano alcune scelte alla fine anche tuo malgrado però penso sempre che il bene del film vinca su tutto quindi anche su alcuni tuoi pregiudizi su altre su alcune tue criticità su alcuni tuoi pregiudizi cioè quello che conta per me il risultato finale e quindi se necessario avere una voce fuori campo per un secondo la devo mettere mi tappo il naso gli occhi la bocca la faccia alla fine però ecco volendo potendo scegliere preferire non esserci alla fine anche perché un cinema comunque abbastanza riconoscibile diciamo che forse basta un inquadratura per capire che un mio film adesso quindi diciamo non c'è bisogno che io sia presente sia così muscolare voglio farmi è proprio una scelta ripeto funzionale al risultato allora io avevo una curiosità tecnica soprattutto sui tuoi ultimi tre film in cui avete collaborato tu e Andrea insieme ed è riguardo all'utilizzo del testo scritto nei film perché ho notato che in sì non c'è una voce ma c'è un testo che viene affiancato delle immagini split screen e in divino hotel ma invece il testo è molto presente a corredo di ogni incontro e anche in mille cipressi comunque i titoli di coda hanno una forma che è piramidale che ricorda le tombe e nel film la tomba è protagonista il cimitero e quindi volevo sapere se c'è stata una ricerca da parte tua e da parte vostra nell'utilizzo del testo scritto allora sì c'è un testo in edito un testo che ho scritto appositamente per il film che parte un po' da un ricordo di infanzia quindi da questo suicidio a cui ho assistito da piccolo quindi diciamo un po' questo è il primo testo sugli altri due lavori abbiamo due testi completamente diversi mille e mille cipressi abbiamo secondo me uno dei dei racconti più 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 belli della dell'architettura le parole di carlo scarpa secondo me sono incredibili io credo sia proprio uno dei veri testamenti dei lasciti al pari della torno embrioni sia questo testo c'è dove racconta perfettamente la sua poetica adesso la sua riflessione il ruolo dell'architettura oggi questa grande capacità di critica ma anche così di costruire proprio con il proprio linguaggio una critica senza fare una critica fino a se stessi credo che scarpa abbia lasciato questo grandissimo testo insomma anche per sulla memoria no quando si interroga sulle generazioni future che cosa cosa capiranno cosa come 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 interagiranno con queste parole con questi in questo suo rascito no mentre in vita terrena di amletto marco belelli c'è un altro ragionamento sul testo fatto qui soprattutto con andrea che è più grafico e più di sintesi quindi da una parte abbiamo letteratura dall'altra parte uno sposalizio con un pensiero altrui che quello di carlo scarpa che condividiamo pienamente in ogni singola perifrasi e poi c'è tutta la parte grafica che quella di amleto quindi diciamo dove dice proprio la sintesi è un lavoro più grafico diciamo che che testuale ecco non so se andrea vuoi aggiungere tu qualcosa sì io volevo aggiungere anche per collegarmi a quello che ci siamo detti prima quello che diceva luca su cosa cerca nei collaboratori io devo dire che mi sono sorpreso del fatto che forse una delle più grandi affinità che ho con luca è quella che riguarda l'impaginazione e l'editoria nel senso che abbiamo scoperto collaborando insieme di avere proprio un amore per la tutto l'apparato grafico che fa parte di un film perciò suo termo abbiamo fatto in parallelo al lavoro di montaggio anche un lavoro di ricerca su come presentare al meglio questo personaggio anche dal punto di vista grafico di come sfruttare lo schermo nero di come sfruttare i lati dell'immagine perché luca voleva un'immagine quadrata iconica cosa potevamo mettere i lati cioè cos'è che dava anche bellezza a un'immagine volutamente sgranata e volutamente impastata quindi abbiamo abbiamo esplorato un po il lato estetico del divino hotel ma che è molto connotato e siamo arrivati alla conclusione che forse il modo migliore fosse anche lasciarci ispirare dal suo sito dal suo sito web che non so se avete avuto modo di visitarlo ha una connotazione veramente retro si parla proprio degli albori di internet e quindi anche dal punto di vista estetico ci sembrava molto molto bello anche molto molto coerente con con il film prendere spunto da quelle da quegli apparati grafici e io mi ricollego perfettamente perché la mia domanda era sui formati che già ha citato luca e che adesso ha citato andrea perché il lavoro sul formato e sul device spesso proprio che viene utilizzato nei film è molto particolare spesso è anche sa anche essere enigmatico utilizzo della della pellicola per esempio ti sentiamo ti sentiamo un po male marco si è un po vattato aspetta se se tu esci e rientri ci si chiude anche a noi noi abbiamo vissuto questa situazione spesso con il divino termo non preoccupatevi non preoccupatevi che è un classico volevo fare una domanda appunto sui formati perché effettivamente cambiano di film in film sono spesso diversi e avete citato entrambi che le avete citato entrambi è un aspetto molto importante e immagino ci sia un forte legame col col soggetto del film anche se capitano situazioni in cui viene utilizzata la pellicola anche il digitale in contesti non voglio dire uguali ma assimilabili perché a bovo e tottori sono i due film con ambienti deserti che adesso mi vengono in mente entrambi molto brevi però per dire e neanche nella stessa nello stesso ambito della trilogia casalinga pierino è in vhs dulcinea è in digitale anche la casa dell'amore il sinè in 16 mm ok mi sono sbagliato comunque comunque diciamo prima che ne dico altre volevo chiedere comunque il sei il come avviene la scelta del formato questa e credo inevitabilmente sia una scelta che viene fatta proprio all'inizio evidentemente è insomma cosa cosa determina sia a livello tecnico a livello espressivo è proprio uno dei ragionamenti principali che 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 faccio perché partire con il fatto di dover usare per forza l'ultimo ritrovato tecnico mi sembra una cosa insomma senza senso no quindi abili e iniziamo ad avere una macchina che ha insomma più di cent'anni ormai di storia quindi non per forza digitale in 4k non per forza dobbiamo usare per forza un arred o se se la situazione lo richiede bene è possibile secondo me ma bisogna pure probabilmente anche interrogarsi su che cose più coerente ecco l'aspetto della coerenza per me è fondamentale in tutto anche in questi dettagli qua quindi ad esempio vhs in pierino e mi sembrava il formato più 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 funzionale più logico più 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 rispettoso anche di un personaggio che è cresciuto con il vhs dell'unità alla casa permeata di vhs dell'unità quindi diciamo un approccio digitale e sarebbe stato totalmente fuorviante ecco penso invece a 16 mm su un film feticista come le due sinea era inevitabile che il feticismo del protagonista per i piedi della fanciulla per la casa per l'ossessione per le sue tettine per il suo corpo quest'ossessione che ha per la pulizia forse la stessa che resista dove essere in mezzo alla fine quindi 16 mm diventa in questo caso un rispecchiamento dell'ossessione appunto feticistica che è presente e per me a tutto il film alla fine e così via e così via c'è sempre un discorso di coerenza e rapporto in base a quello che stai che stai facendo insomma è interessante invece il parallelismo che hai fatto mentre sei la prima persona che si è accorto ha fatto questa domanda sul fatto che a bovo è girato in 8 mm in alto ambiente desertico è stato girato in digitale quindi mi fa piacere che è la prima volta che mi trovo a dover dire questa cosa quindi la differenza sostanziale tra bovo e tuttori nasce dal fatto che a bovo oltre a essere un film legato al piano sequenza e quant'altro un linguaggio cinematografico completamente diverso rispetto a tuttori che sono inquadrature fisse in digitale c'è proprio la sfida cinematografica perché noi siamo partiti dall'Italia siamo andati in Marocco con un numero limitatissimo di rulli dovevamo avere quel numero di rulli completamente girati che tra virgolette andate a buon fine perché altrimenti il film non si poteva fare quindi la sfida che ha avuto Pietro De Tilla in quel film era non solo di fare dei piani sequenza perfetti di fare dei piani sequenza con dei movimenti calibrati con una luce giusta, con uno sviluppo corretto del colore e quant'altro ma c'era anche il fatto che qualsiasi imprevisto che potesse essere anche esterno quindi attoriale piuttosto che imprevisti di natura di qualsiasi natura poteva pregiudicare non solo il rullo ma proprio la realizzazione stessa del film cioè a bovo è una grande scommessa partiamo per il Marocco con otto rulli dobbiamo tornare con otto rulli fine e devono essere tutti buoni questo fa un po' il discorso che dicevamo prima di costruire sempre dei limiti di costruire sempre degli schemi delle situazioni c'è una grande differenza tra Tottori e a bovo appunto perché uno è anche un azzardo produttivo cinematografico cioè organizzare un viaggio, andare in Marocco e dire deve essere tutto buono alla prima perché altrimenti il film non lo facciamo non lo giriamo ha contribuito secondo me anche in Pietro ad avere quell'ossessività quella cura che poi si vede nel film sono immagini bellissime forse uno dei film visivamente più potenti direi di quelli che ho fatto e non credo che sarebbe stata la stessa cosa avendo dell'agio avendo un DOP con la possibilità di rifare a suo piacimento delle scene in questo caso credo che la costrizione abbia portato un beneficio infatti è un film che visivamente reputo molto molto importante in generale il formato è anche molto in qualche modo manomesso e rielaborato avete detto adesso della vita terrena che appunto viene incorniciato viene inserito in un collage più ampio succede la stessa cosa in sì però insomma già avete risposto sul fronte editoriale grafico quindi insomma volevo soltanto riferirmi a questo e basta la prossima domanda è più di carattere generale nel senso hai citato prima che un regista in cui tu trovi delle somiglianze col tuo cinema è Monteiro e volevo chiederti quali altri registi tu guardi cioè che cinema guardi sia italiano e sia mondiale guarda sì guardo guardo cinema ma non troppo diciamo nel senso che non sono un cinefilo ho sempre un po' paura che insomma che che questo tipo di interesse sia possa anche un po' sporcarmi in qualche modo non so è meglio secondo me essere ignari di quello che stanno facendo gli altri e concentrarsi molto bene su quello che si sta facendo interessarsi tantissimo invece di tutto quello che è ricerca esterna al cinema quindi sono molto interessato al teatro sono molto interessato leggo molto mi appassiona molto l'architettura la storia del design ho interessi esterni al cinema ecco diciamo e quindi del cinema guardo sicuramente quando posso vado al cinema per vedere soprattutto film di registi morti questo è un po' questo è un po' questo è un po' questo è un po' sono veramente pochi film dei viventi che ho dei ricordi molto belli con Pressane che tra l'altro ho conosciuto lui tra l'altro ho amato moltissimo Pierino abbiamo parlato a lungo di questo film anche ho una stima di Pressane ad esempio ho una stima se devo parlare di un grandissimo film che ho visto recentemente ma veramente un grandissimo film che mi ha sconvolto è A Est di Burka Est un film veramente clamoroso clamoroso fatto con film anche povero direi con una grandissima intuizione e una grandissima idea di cinema mi ha veramente fatto lo stesso effetto che ho avuto la prima volta che ho visto Playtime di Tati ecco per dirti stiamo parlando di un cinema ecco di questo tipo quindi si guardo spesso autori film vecchi ecco difficilmente mi approccio a un cinema contemporaneo e ovviamente evito come la peste i film italiani del cinema che del cinema che insomma oggi vediamo in sala quindi non credo ci sia assolutamente nulla di dignitoso che si possa vedere interessante ad esempio il cinema rumeno negli ultimi 15 anni il cinema rumeno sicuramente ha fatto ha fatto qualcosa che noi a livello proprio produttivo al di là perché alcuni autori indipendenti validi ci sono in Italia non voglio stroncare tutti ci mancherebbe però ecco sto parlando di film con produzioni significative la distanza che c'è tra il cinema rumeno dall'italiano mi sai noi abbiamo Vicari capite benissimo che insomma solo il cuore amore rispetto a Puyo e a altra gente insomma diventa diventa veramente imbarastante stiamo parlando proprio di di situazioni completamente diverse in paragoni improponibili non so se ma io la domanda la rigirerei anche ad Andrea se vuole rispondere cioè influenze a questo punto l'allargherei anche a influenze di tipo letterario ma intendi in tempi recenti o in tempi ma in generale in generale ma in effetti la domanda in cui non mi ero preparato quella di pensare in termini anche letterari a quello che può avermi influenzato però devo dire che da quando da quando frequento Luca anche non solo come collaboratore mi sono accorto che gli stimoli più interessanti che ho ricevuto anche a livello di diciamo così lavorativo linguistico li ho avuti da un sacco di cose che non riguardano il cinema banalmente le mostre banalmente non lo so andare a a vedere una mostra la triennale capitava magari che ci confrontassimo su qualcosa che non c'entrava niente con un film e poi improvvisamente andavo a casa e mi dicevo ma sai che quella cosa che ho visto mi è nata dentro è cresciuta e mi ha dato uno stimolo visivo per risolvere questa questione del film o di un film comunque di qualcosa che riguardava magari un lavoro che stavamo facendo insieme o che avremmo fatto insieme in seguito quindi diciamo che se devo proprio identificare gli stimoli o le cose che più mi influenzano sono ad esempio sono molto affezionato a un manuale di impaginazione che ho letto anni fa per caso mentre facevo il proiezionista al cinema lavoravo durante una proiezione mi ero portato sto libro preso in biblioteca che era un manuale di una quindicina di anni fa su come deve essere impaginato un libro e io da quel libro lì credo di aver inconsciamente imparato tantissime cose che poi adesso lavorando con Luca mi fanno sentire capace di gestire magari un lavoro difficile o un lavoro che prevede anche una riflessione diversa da quella che sia solo il montaggio duro e puro poi vabbè se devo anche io parlare di cinema recente mi sono trovato in lockdown a vedere anch'io un sacco di film di gente morta bellissimi classici che non avevo ancora recuperato magari e quindi mi ha fatto bene anche fare un'opera un po' di archeologia per vedere quello che che avevo lasciato magari lasciato magari un po' così non l'avevo considerato come avrei dovuto però ecco se devo pensare a a un regista o a un autore che di recente mi ha proprio sconvolto un film che mi ha sconvolto che un amico mi ha consigliato per anni e scarpette rosse che non avevo mai visto l'ho recuperato qualche sera fa e dal punto di vista linguistico dal colore dal punto di vista del ritmo è una cosa abbaccinante è una cosa che veramente mi ha mi ha cavato gli occhi bene io direi che possiamo anche chiudere qua ringraziamo ovviamente Luca Ferri e Andrea Miele tantissimo grazie a voi grazie a voi grazie per essere venuti ovviamente poi metteremo in descrizione anche il sito di Luca con la filmografia e tutto quanto e stasera c'è la live verso le nove e mezza circa su YouTube per i tre anni del salotto quindi grazie per averci seguito e alla prossima auguri grazie grazie ciao grazie